Sono consapevole di aver sbagliato il fotografo, oggi, che comincia a assaporare il bene e a disgustare il male. La morte di Don Pino ha contribuito a più di me. Purtroppo, per la realtà che mi accordo molto, chissà se Don Pino è stato mandato da Dio sulla terra con dei copi di specie. A me personalmente, fa male ricordarlo per il motivo che tutti conosciamo. Ma a tanti, e tanti altri, può far bene ricordarlo. Perché Don Pino è morto per il bene degli altri e il prezzo è stato mandato.